Facu Vittoria Bella, convincente, ti chiedo quanto ha inciso anche in questa reazione, magari anche un po' di delusione per la sconfitta di domenica? Sì, sì, eravamo arrabbiati dalla sconfitta di domenica perché credo che era meritata anche per gli episodi che ci sono stati, quindi l'abbiamo archiviata subito, abbiamo preso quella rabbia lì per vincere oggi, anche ricordandoci che l'andata non era andata bene a Montevarchi e volevamo vendicarci. Quanto ti mancava il gol? Un po', erano le ultime partite, avevo giocato anche un po' meno, oggi il mister mi ha dato l'occasione, io mi sono fatto trovare pronto, anche i miei compagni mi hanno aiutato molto, adesso continuiamo così, spero che portino ancora punti. La doppia cifra è lì, vicina, ci pensi? Sì, sì, adesso ne parlavo anche con Matteo Giorboni che scarsavamo su, che diceva che il decimo gol lo farò in Sardegna, adesso manca veramente poco, spero che la squadra mi aiuti, anche sull'ultimo pallone che ho voluto esagerare un po', calciare per cercare la tripletta, magari potevo servire Schenetti e Magrassi, infatti ho già parlato con i ragazzi, ero stremato e niente, speriamo che arrivi presto. La squadra proposta ha segnato, la sensazione è che si sia anche divertita. Sì, sì, oggi abbiamo trovato buone trame, loro ci hanno concesso tanta profondità, tanti spazi e noi abbiamo giocatori di qualità davanti al centro campo, anche oggi il Rada ha dato qualità, ci ha aiutato a noi attaccanti e ci siamo divertiti, anche il secondo tempo forse un po' la stanchezza, un po' tra virgolette la pancia piena, ci siamo abbassati ma abbiamo dimostrato anche facendo gol dopo con Magrassi che siamo una squadra forte. Grazie.